Lisetta, 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 ma due diavola si è caciata sta donna, sempre in giro. Carlo, sono dovuto uscire presto per dei motivi importanti che poi quando torno ti spiegherò. Non preoccuparti per me, fai la colazione che ti ho già preparato sul tavolo. Cerca di non sporcarti come il tuo sogno. Motivi importanti, certamente in giro per i negozi, perché per lei la roba più importante nei negozi. Ma allora qui, hai il bote messo la mattina, ma i negozi non hanno bisogno di servire. Ma se non ci preoccupiamo o no, ma che mai succede? Che andassi fuori in Schiprest? In che, addirittura, deve aspettare che servano. Chi sa cosa l'ha dato a comprare. Ah, ma forse... Forse che i saldi, allora lei è pervesse la prima. Ma... Allora, leggiamo il freddo. Sì che le ha la mia misura che le fero. Ma... Papà? Eh Giulia, tu mi fai qualcosa di strevì? Oh, ma cosa senti che ti parli, ma hai da partire? Eh, per forza. Per forza parli, hai da partire. Su chi, hai da partire, allora per fare compagnia, ma facevi domanda e risposta. Ma, Matteo, ma la mamma? La mamma è la che no, non è lenta. Al posto della tua mamma, che ha i biglietti, ti sono quei costi? Ah no, a me la ma di niente. Comunque la vignacata sicure, che è un pericolo che perde la strada. Papà, mi ma fai che ti... Eh? Ti ha un altro riguardo alla mamma. Ma guarda, che se la gaffi non l'è, eh? Eh, insomma, la mamma la ti vuoi bene. E anche a me la vuoi bene. Guarda se le deve trasmettere per me adesso. Eh? Un momento, guarda che a me, ma in me si dubbi che lei la vuoi bene. Anche a me la vuoi bene. Eh? Più se di quello che lei la pensa, ma lei ha il suo atteggiamento che certe volte mi fa. Eh, dai, su, la sempre ogni tanto la stessa su. E tu, per un ricordes, che canca il buio, al mordano. Va bene, adesso per la mamma, vecchia e con ton su. Dai, com'è lei che la va? Tutto bene? Si, la va proprio bene, papà pensa. La nausea, all'esparrida completamente. E, e mi, e mi gaveregemo bene al mio piccinino, papà. E in più, tal se, la mamma la se ha ancora rassegnata a fare nasce senza un papà. Eh, ma, ma mi sono sicura, eh, che al fiorino, che per il nostro fiorino, al gavarà una famiglia come tu ci hai. Ma si, ma preoccupa, snoga, sul timì e il concerto del Vasco Rossi. Parla più. Al te piace? Ma che piace, è piace, dai, al Vasco Rossi. Ma, ma, tansè, all'estai tutto un tentativo, in buona fede, della mamma, eh, per fregar Renato. Però, con Renato, che stai proprio niente a fare, galantò, innamorato e soprattutto fedele alla sua amorosa. Ma, e perché Renato? Al gala amorosa. Eh già, però, e vacca boia, sono neanche riusciti a far dire chi legge la fiorina. Ma, ho tentato in tutte le mani, da far capire a Renato, come la mamma aveva istruito la mamma, che sarebbe disponibile. Ma, te lo dì, lui, niente, niente, niente. Tant'è che alla fine, a me, fino a dispiace, e invece di portarla all'albergo, che la mamma l'aveva prenotato, sento il mio padre e mi fiori. Secondo me, questa è mei che la sia succedida in quella maniera qui, eh, ma come si fa? Pensate a arruinar la vita da due giù, anche se saver amminga bene e fai stare insieme tutta la vita. Domani, una crapabusa come la tua mamma, eh, la poteva pensare a certi reti. Eh, te lo dì, la mamma, la, 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 la voleva scontare scandalo e fanno parlare la gente. Eh, intanto però, conti sui dei, la varia combina un bel rebelote da sopportare tutta la vita. Eh, tu hai ragione. Comunque adesso, a voi da là, eh, a voi a cambiare perché a voi andate del dottore. A far vedere gli esami, per vedere se le tue cose vengono spolite. Bravo. E voi mi preparo. Ma chi le ha chiuso a parlare? Ta verve, che le la Lisetta, che la perdice ha a farà. Eh, ridi Lisetta, un attimo. Adele. Oh, ma se ti fai chi? L'era ora che te faceva viva. E questi chi? Mi sono la sua zia e questo chi è il mio fio. Sì, mi sono la sua zia. Mi sono la sua zia. Cioè, della mia mamma. Della mamma. Sì, sì, sta cittù che gode parlare. Sì, sì, sto cittù, sto cittù. Oh, ma che bel biscotto, mamma. Chi sa come in boll? Natalina, tu che ne fai il bravo e se ti fai giù che gode parlare. Ah, capirà, te, come diceva? Dai, cavalli il capo. Mamma, dai, mamma. Anna, mangi di me qua, te. Dai, su. Anzi, ci. Va, facciamo la bella. Va, tu me vuoi. Muca da Natalina che stamattina avevamo mangiare un francesco e un di tocco di cioccolato. Sì, è buo, se ti fai giù. Allora mi mangi, eh? Sì. Buon appetito. Duma neve, mamma. Duma neve. Sì. Buon neve. Impienista svetta la buca che mette in silenzio, eh? Oh, grazie. Ma tu che sempre portali insieme, dato il suo stato, poi dimminga la salita per lui. Sì, ma che si preoccupano? Gettano da chi biscotti, clacca qui? Sì, sì. Che ne è camutata. E anche più se è buono. Oh, allora, mamma, mi spieghi per sempre, eh? Mi vuoi più vedere qui. Parti qui. Che mi scusa, eh? Ho due tira il grande giudato per me, perché il suo pa, pace e l'anima sua, le morti quando erano piccini. E il malassacchi, che la cruzzi qui. Ma dispiace, Sura. Ma come si dice, ogni dunga la sua da credere. Eh sì, però che è chi ve la leggera e chi pesanta. E la mia, le bella pesanta. Vuoi di mangiare a me? Se lui permette, guarda, mangia, mangia, che mi ha anche una bocca piena. Fa un po' in silenzio. Allora, come la va? Le è un pesca, che ti soffri più, eh? Guardate qui. Le si imparano la tua casa, la tua famiglia. Oh, le ben per quel che sono qui. Bella famiglia. Ma, 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 ma l'haga forse da lamentare dunque cosa. Ah, e lui la c'ha manque cosa. Oh, bella curata, bella faccia di tola. Ma, ma che maniera è? Eh, faccia di tola. Sì, faccia di tola, che beee. Combrò una tal mangetà. Sì, sì, mi mangi. Ecco, fa l'astacito. Insomma, se ne che, che succede? Mi però vorrei parlare in presenza della sua donna. Perché la più si è responsabile lì in due le? Già, due le. Ma, ma, ma perché se la veri è combinata la mia donna? Oh, direttamente niente, ma... Ma cosa? Eh, che la facciamo, che la facciamo che voglio dire un cuore, sì. Eh, dai, che la facciamo. In quel momento che la mia donna è fuori, eh? Quando la tornerà la caputera di anche un cuore. Ma Adele, la mi spiega, farà fine per sé. Ha il motivo perché è venuta qui? Sì, Adele, arriva il tuo momento, parla. Dai, Adele, parla. Basta, la tale. Oh, dai, Adele. Dai, la spalle. Lei che... Lei che... Lei che roba, allora? Ma se ti fai un quattro, vedo un di trovare i medi. Oh, come se fosse possibile trovare i medi a certi rob. Già. Però capisco che il più se vuole. Ma le semplici. O leggiamo una quale settimana che mangiano? Allora, Adele, ma che succede un quei cosi? Eh? Ma ti stava ben nocchi? Ti aveva... Ti mangiava ben nocchi. Ti lavorava troppo. Ma no, no, amici. Sono sempre stai benissimo. Fin troppo bene. Eh già, troppo bene. Tanto bene che poteva fare quel che lavorava. Anche quel che si poteva non fare. Eh già. La Adele, ha una ponella. Non c'è la tita, se poteva. Ma Adele. Non ci avrei mica rubato, eh. E non c'è neanche così. Ma no, ma se è da pensare sul Carlo. Ma no. E allora? E che... Oh, grafuno, ma vergogno. Oh, l'era prima che t'a due aver vergognato. L'era prima che t'a due aver vergognato. L'era prima che t'a due aver vergognato. Ma mamma, se la fiera aver parlato, ma che la parla le parlinci. Mamma, parla a te parlinci. Parla a te, se non andiamo a capire. Dai. Se la sua donna l'avessi cura un po' più se la mia neuda, sarei non successo qualche succeduto invece? Eh, invece... E invece? E invece l'incinta. E invece l'incinta. Oh, signor, ma di chi? Ma pensavi che so che roba me? Come sarei a dire, tutti? Ma sì, ma la fiera... Le giugna, le intelligenta, le brava. Che sarà nessun problema per la gravidanza. Oh, per quella magari no, ma per il resto un piccolo particolare. La tusa è no spusata. No, le no spusata. La mia pastilla è diversa. Eh, ma quello è no problema. Anche la mia Giulia le no spusata. E l'aspetta un fio. Anche la Giulia le aspetta un fio. Eh sì, e anche lei le no spusata. Nonno. Ma forse lei la sa ricorda, no? Ma certe cose capitano. Quando sei giù, quando il sangue è buio, e quando magari la paia aveva troppo renta al fio, si sa che la sapesse. Caro mio, se anche parla, un po' di cosmo ricordi mon cammin, ma guarda che quei di una certa età che hanno un po' di esperienza, dovrebbero anche stare attenti e che la paia lavagano troppo vicino al fio. Eh? Eh già. Troppo vicino al fio? Ah, sa bruza, vero? Vero, mamma. Mamma, 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 le dobbiamo aggiungere un po' di cosmo. Eh, signore. Voleva fare un caffè. La beva il caffè? Sì, grazie. Su, non ho troppato pratica, però ho po' di provare. Oh, Giancarlo, se mi permette, voleva preparare il caffè, su, manca un po' di pratica. Bravo, fatica. Mamma, mi gusti, mi gusti tanta, mi vuoi la gasosa, bella fresa e tanta. Ma che la manda di lei in cusina insieme a lei, almeno a beva qualche vuore. Ti, da, va, vedrai la degna, la stai fatta da bev, ma raccomandi per noi, bur degna, non come il tuo solito, eh? No, 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 stai tranquilla, mamma, ciao. Bu, bene. Oh, Signore. Allora anche lei la diventa nona. Ma per carità, ma l'ha visto bene il mio figlio? Come fa o diventa nona? Per la Dele però, se non ho capito, lei non ho la mia tusa, è la mia neuda, la tusa del mio fratello che è morto quando la Dele aveva votato. E lei era piccina e lui era già muovendo perché la sua donna, se capisci che lei è andata fuori a decò, l'ha subito da giù dal balcone, terzo piano, una spettaciada. Era tu usami e tu fai tirare la semifin che ho potuto. Poi l'ho mandato qui dalla Via Alter per guadagnarsi il pane. E Via Alter, eh? E Via Alter, eh? E Via Alter me la si trova in cumbra. Sì, ma dispiace, è partito di sgrassi che è capitale. Ma guarda che chi, nessuna colpa è, e la fiera la sarà innamorata e magari l'ha anche un bravo giovinotto. Oh, tanto bravo e non è, perché certe cose si fanno prima, se non approfittare di una tusa orfana per giunta. Sura, vero non metterà il cartellino della piaga. Ma per fare certe cose, ma per che bisogna avessi in dire, è una sbagliata. Ah sì, ormai le fada. Però calma, ascolta. La mia neudala mi ha detto che il porco l'ha visto che lui conosce tanto bene. Sì? E lei è la camota di niente a questo porcello. Perché? L'ha innamorata e la verrà ruinare la vita costringendo la scusata. Mi però, mi, vorrei sapere se il porco l'ha proprio un porco o anche lui che avrebbe la tusa l'ha disposto a rimediare. Sura, mi non capi niente. Lei non che magari la peda avesse un ciccino in più se precisa. Al masca al sud è un certo Renato, al fiore del suo soci. Al Renato? Ma va che bravo! Ma Sura, ma lei è un fiore d'ora. Bravo, sano, intelligente. Lei è un fiore che fa sempre funzionare il cervello. E mingaduma quel. Ma la Sudeuda, la Sudeuda le capitale della patagista. Oh! E volevo dire, nella persona giusta, la vedrà che non sarà nessun problema. Oh, ma lui lo dice davvero. Le fai più di qualchema di questo? Ma sì, adesso, adesso diciamo il telefono a Renato. E la fu vignichissimi. La vedrà che rassa di fiore. E se Renato la fai certi roba con la dele, alza tira la minga in tre davanti sull'escusa mia. Oh, anche prima se mica tira in tre con la mia madre. ... ... ... ... ... ... ...